Benvenuti giocatori, scegliete la pedina. Da adesso in poi voi siete i Time Master. Un risultato sorprendente inatteso al tempo stesso. I ragazzi e le ragazze della quarta B, della liceo VI Properzio di Assisi, indirizzo Scienze Umane, hanno trionfato nell'ambito dell'undicesima edizione della concorso nazionale di filosofia romana e disputazione, per loro un significativo primo posto nella categoria Video Junior, con il premio ritirato in occasione della cerimonia di consegna andata in scena al Teatro d'Use di Bologna. Il progetto ha preso il via settembre con la formazione di oltre 200 team chiamati a elaborare un contenuto filosofico originale in forma scritta oppure sotto forma di video. Proprio attraverso quest'ultimo linguaggio, gli studenti e le studentesse Umbre sono riusciti a dimostrare il proprio talento e a convincere la giuria con il cortometraggio intitolato Time Masters. Ho deciso, lascio perdere. Ma piantala, fai di testa tua e viviti il presente. Hai proprio ragione, ho solo il presente. Un intrigante e originale meccanismo del gioco da tavolo capace di proiettare il corto in una dimensione fantasy, questo un estratto della motivazione che ha consentito alla classe Umbra di trionfare riguardo l'opera a grande apprezzamento anche per le inquadrature e per le strutture narrative del montaggio. Dai, sbrigati, tocca a te! Ma quando finisce questo gioco io non voglio più giocare! Mi sembra ovvio, quando arriviamo all'ultima casella.